Sono Angelo Bracciavento, responsabile alla produzione dell'azienda agricola Moccare, una dimora antica masseria del 1626 con i suoi terreni annessi. Abbiamo parecchie culture tra vigneti, olivetti, frutteti, pesche, albicocche, susine e facciamo ortaggi a ciclo estivo e invernale. Quando siamo partiti avevamo un obiettivo di creare un'azienda che ci rappresentava, creare proprio dei prodotti di nicchia e puntare molto sulla qualità. Noi siamo azienda agricola Moccare, noi siamo terra dei messapi. Grazie.